bello a tutti ragazzi a questo questo noi sono francesco bello oggi siamo qui su un nuovo video oggi siamo nel bosco come potete vedere non era il tipo il bosco ora andremo più lontano lì ci sono i nostri genitori e ora andiamo guardiamo se ci sono le fragole del bosco ah sì c'è il mio fratello massimiliano saluta bella c'è il mio amico lorenzo saluta ciao c'è il mio amico alessandro saluta ciao c'è la tipa saluta ora io a presto non ho niente per uccidere gli animali eh però sono lì ok ho il telefonino al boh vabbè ce l'ho un po' allora andiamo lì giù chi vuole registrare? io 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 no la luce è piccolo ragazzi ora sto registrando io il fratello massimiliano ciao aia ciao mi sono fatto male con un bastone ragazzi guardatevi da mezzo se no la registrazione venne male ragazzi tutti faccio il richiamo dell'orso ragazzi ragazzi un attimo tu con la telecamera c'è un telefono vediamo i nostri genitori sono 23 ore che ci stiamo preparando questo video porca troia ok guardate questo alberello guardate il pino questo è un pino piccolo sono dei pini dei peni porca qui stiamo uscendo questo è pericoloso ragazzi però digli dove siamo così almeno se la vogliamo ah si siamo ovviamente siamo nel bosco dove ehm a rocca di cambio no a rocca di mezzo aia guardate questo alberello qua rego io a te io l'ho portato per ma rego io la gamba ok bene temilo bene aspetta aspetta occhio no no non mi vado eric è andato il mio padre eccolo lì si stiamo a fare un video su youtube sto a registrare camminate sul sentiero perchè perchè si stiamo a registrare c'è il mio cane otto il maialotto o ora od no vabbè cerchiamo un po' iiiiiiiii iiiii iiiii frutti come si chiamano le fragoline guardate un altro mini pino un altro mini pino porco schifo guardate qua che bello saluta ieri stavamo in montagna stavamo a mangiare siamo andati sempre in montagna però siamo andati in un bosco un po' diverso da questo non era tutto così ma dovevamo prima salì su una montagna e dopo e dopo salivamo nel bosco lui che ha fatto il mio padre dice che bisogna correre in salita in discesa lui arriva corre in salita in discesa corre e stava per cascata è cascato però non si è fatto niente per fortuna 360 gradi del posto ci sta mio padre e tu ti sei rientrare con il mio schio quello che è una zampa di orso è una zampa di orso quella guardate guardate io stavo a fanprank e poi che cosa? ma nessuno ci stava credo 3 3 4 il muro cos'è? qui ci stanno vogliono ti a registrati posso registrati? no sei piccolo certo che io sono letto e lui è Massi e lui è lui Otto e lui Dello lui è il nostro cane mio e di Francesco Otto guarda che bello Otto è un massiccio si sta scaricando al 20% ok è troppo basso oh guardale le fragoline le fragoline sono marce però nooo mi piacciono a me e anche a noi spero ciao raga ciao bello Dio sono forti fa lì dentro ciao a tutti io sono Lorenzo stiamo incontrando caso che ha fatto? che ha fatto? oh questa qua ancora non è matura sta non sta matura era verde sono una delle aiutate sono oh e questa è matura guarda quale dammela ma magno e me le fra questa è matura me la posso mangiare? guardate me la posso mangiare? no 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 devo farlo vedere prima mia padre adesso guarda ma dove vai? non amo me la posso mangiare? oh stai calmo no ecco le pronti papà questa è buona da mangiare? no 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 si no che papà ha detto che non sono buone non è che te perdi? andro pure io seguite il sentiero allora sono due cacasotto un cacasotto guarda che bello guarda che vento volte tutto bello non guardate mai in alto mentre camminate io stavo cadendo di sotto oddio che carino wow guardate che bello si no no tanti cani e cavalli che cacano ragazzi prego prega non va bene noi due abbiamo gli ultimi secondi di registrazione questo qua non si spinge agli borri cazzozza fuori non lo stai non hai me la pigna votabile hai teic qua sopra? no votabile eh? lui da che nulla muore vab Mountains se vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi è bella ragazzi